Ciao ragazzi, un saluto dal tarfone. Allora, piccole news, visto che ho tempo in questi giorni, incredibile, e piccoli accorgimenti rispetto a quello che vi ho detto ieri, che mi avete detto voi. Allora, per la saga di Space Engineering, ieri lo hanno aggiornato, per cui devo aspettare che aggiornino tutte le mod, per cui per ora mi fermo e farò qualcos'altro, sto vedendo cosa fare. Ho sistemato il canale Twitch insieme con le Kira ieri, per cui va un po' meglio. Il discorso di YouTube, non è che lo voglio abbandonare il canale, perché me l'ha detto Luca, ho capito che si capisce che voglio abbandonare YouTube. In realtà lo metto un attimino in sospeso, perché io ho una connessione internet a casa che sfrutta il wifi del padrone di casa, perché fisicamente non posso avere un internet mio. Dovrei fare dei lavori, sono molto costosi, in questo periodo non possiamo permetterceli, per cui al momento, ok, temporaneamente, sì, mi sono appena svegliato, ho una faccia da culo, al momento mi devo appoggiare sulla linea dei padroni di casa, e devo cercare di pesare anche il meno possibile, perché comunque ci sono anche loro che lo utilizzano. Per cui, diciamo, il canale YouTube lo metto in stand-by, e utilizzo Twitch per ritornare a farmi vivo, a fare due chiacchiere, a giocare insieme con voi. Poi, adesso in questi giorni c'ho tempo, settimana prossima torno all'amorosa a casa, per cui, magari, invece di fare la live ogni giorno, la faccio ogni due giorni, oppure la faccio di un'oretta invece che di tre ore, oppure la faccio la sera, oppure facciamo qualcosa insieme con l'amorosa, tipo World of War, cazzo, cose di questo genere. Ci possono essere vari ed eventuali, però voglio ricominciare, piano piano, a ritornare alla roba dei miei maroni, ok? Sempre in compagnia, a fare due chiacchiere, ieri sera ho fatto una piccola live, un po' tardi, verso le 10 di sera, ma perché stavo provando a... ho cambiato programma di registrazione, non uso più XSplit, uso BS, per cui ho dovuto reimpostare tutto BS insieme a Kira. Ho messo le incongcine dei nuovi subscribe, dei follower, delle chat e tutte quelle cose lì, per cui adesso il canale Twitch è abbastanza sistemato. E che altro avevo da dirvi? Sì, il discorso YouTube, diciamo, al momento lo accantono. Se tutto va bene, lavoro, scuola, diciamo, ho, come si può dire, dei livelli, delle tappe, delle tappe, che mi possono svoltare in meglio la mia situazione, ok? Devo aspettare e vedere cosa succede. So già che alcune tappe accadranno, ma non so in che termini accadranno. Se vado in meglio, se vado in peggio, se sto alla pari, tutte queste piccole cose. E poi c'è la vita quotidiana e ci sono dei progetti che abbiamo io e Vicky. Tipo, lei vorrebbe finire la scuola, vorrebbe prendersi la patente, che hanno dei costi. Intanto c'ho un mega elicottero in giro per casa, vabbè, tenendo le finestre aperte, entrano le mosche. E per cui ci sono delle piccole spese che dobbiamo tenere in conto. Se tutto va bene, dal tradire e fare, cioè di mezzo al mare, detto da parte che sento spesso dire da mio papà, e se tutto va bene, questo inverno, barra, primavera prossima, dovrei riuscire a spendere i soldi per portarmi fisicamente i cavi in casa. Per cui avere la mia DSL, una 50 mega, niente di che, però, insomma, vediamo come sono qua in Germania. Per cui, magari poi ritorno a fare la live su Twitch, non so, il sabato, la domenica o la sera, e a portare contenuti nuovi su YouTube, tipo Fallout 2, giochi che escono, giochi che sono più da YouTube che non da live, come Space Engineer. Space Engineer, se devo fare una cosa, ci metto ventordici episodi, mi faccio una live, incazzeggio e via. Potrei riaprire server di Minecraft, potrei riaprire server di Space, cioè ci sono tante piccole cose che posso fare, però ci sono degli step prima, delle tappe prima, che devo, si devono svolgere e devo vedere come si svolgono. Non ve le posso dire, quando succederanno, vi farò un video, vi faccio un vlog, vi romperò un po' le balle, cambierò un po' l'aspetto del canale, e, visto che posso fare il vlog col cellulare e uparli molto velocemente, senza intesare la linea, senza spendere tanto, cioè non spendo nulla, spendo l'abbonamento che ho della Vodafone, preferisco far così, magari ci sentiamo quella una volta alla settimana, vi faccio un sonto della settimana, di come è andata, cosa è successo, cosa non è successo, e poi se avete domandato, giusto per farmi risentire un po' anche sul canale YouTube, non tenerlo chiuso, non tenerlo abbandonato, ma ricominciare un po' qualche vlogino così stupido, giusto per fare due chiacchiere, e farvi sapere come sto, visto che ringrazio ancora Luca per quello che mi ha scritto, e per non perdere il rapporto instaurato, ok, con molti di voi, di chiacchiera, di compagnia, di quello che è, ci ho pensato stanotte, e ho detto, quasi quasi faccio dei vlog stupidi, fino a quando non ho risolto il problema internet, sempre se riuscirò a risolverlo, il problema è quello, e fare in modo di poter farmi vedere e fare due chiacchiere alle persone che non riescono a seguire la live, si scocciano di recuperare la live, come ha scritto Luca, e litigano con Twitch perché si sono dimenticati username e password, tante piccole cose, ok, allora farò questi vlog quando c'ho voglia, adesso non vi faccio promesse perché non so come sono messo, ma cercherò di tenerne almeno uno alla settimana, poi magari riesco a farne uno al giorno, ma non c'è molto da dirvi, cioè, vado al lavoro, torno a casa, faccio le pulizie, oggi sono di lavatrici, sono in piedi dalle nove, ieri sono stato letto alle un'e mezza perché non riuscivo a dormire, ho già fatto la prima lavatrice, dovrebbe essere quasi finita, nel frattempo stavo leggendo un po' di forum, cose così, su Space, che sembrerà abbia migliorato molto, adesso ho curioso di provare, mi sono dimenticato quello che vi stavo dicendo, vabbè, sapete, vabbè, non sono neanche più abituato a fare video, minchia, già sette minuti di video, vabbè, ho detto solo tante stronzate, se avete domande o altre, scrivetemelo pure sotto che vi rispondo, scusatemi se si è capito male ieri, ma non era mia intenzione, è da tanto anche che non faccio video, per cui ho perso un po', come dire, la parola, il modo di dire, il modo di fare su YouTube, per cui piano piano recupererò anche quello, mi devo riabituare, poi magari tiro dentro anche l'amoroso, vediamo se oggi non c'è, perché è ancora in Italia, se si fa vedere, non penso, però ci proviamo, va bene ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento, questo pomeriggio, non so a che ora, perché devo fare un paio di commissioni, su Twitch, faremo penso un drittone, fino a stasera, perché stasera devo andare a letto presto, perché domani ho l'esame di B1, e che dire, grazie a tutti, quelli che si sono fatti vivi, quelli che si hanno letto il video, lasciate un commento altro, vi lascio in descrizione, sempre il canale di Twitch, così potete mettere il follow, e venire a vedere le live, sempre se potete, quando volete, e, sì, penso che una live al giorno, dovrei riuscire a farla, se no magari faccio un giorno, sì, un giorno no, un giorno per stare con l'amoroso, un giorno per fare la live con voi, adesso vediamo, devo un attimo sistemarmi, però, ho visto ieri sera, con OBS, che, ho un po' di call, o di bitrate, però, la connessione è quella che è, però, non ci sono laggate di streaming, cala un po' il frame rate, però, per il resto non mi lamento, per cui, e poi, mi va bene giochi chiare con voi, per cui ci sta, oggi, forse porto Warhammer, adesso vediamo, basta, mi pare di avervi detto tutto, scusate la lunghezza del video, ma, sono un po' rincognito stamattina, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao,